Ragazzi ben ritornati in un nuovo episodio della OneBlockSkyBlock L'altra volta avevamo fatto una farm di alberi che spero funzioni non lo so Ma oggi andremo a fare qualcosa di molto particolare Perché volevo comunque costruire qualcosa di particolare e strano Ma allora non perdiamo altro tempo andiamo subito Batti, dobbiamo fare qualcosa di incredibile in questa OneBlockSkyBlock Loco dove sei? Ciao Batti come stai? Sono qua sopra mi vedi? Ma? Ciao Batti Ma Loco ma da... Cosa ci facevi sopra l'albero scusami? Tu sei stato qua tutti gli episodi? Diciamo sì sono arrivato qua però ero sopra il sapling L'albero è spumato subito qua sopra e sono rimasto bloccato per un po' Ah e vabbè scendi to Ma non così t'ho messo l'acqua apposta t'ho messo ma cosa aia? Mi serve il cibo fammi E tieni Ho solo quello fatti andare bene questo Ma solo angurie ma dai Ti piace la mia farm di alberi tra virgolette? E' bellissima, fa incredibile Eh? Hai visto eh? Sono bravo a fare le cose Sì sì Vabbè Loco dimmi che cosa dobbiamo fare scusami Spiegamelo un attimo Batti ho preparato un po' di cose Aspetta un attimo Sì dimmi tutto Tu hai zero blocchi scavati Vai subito a scavare Perché io non scavo niente Vai subito a scavare Vai a scavare il centro Muoviti Devi fare almeno una mina Almeno un blocco deve apparirti sulla testa Lo vedi il centro dov'è? Ecco adesso scavi quel blocco Non quel blocco No non quello Questo? No Questo? Loco questo qua Dai Loco Dai Loco fai serio Prendi quel blocco Bravo Vediamo Vediamo Ok Ha funzionato Perfetto bravo Loco No aspetta quello lì Se no poi Prendilo così No scherzavo Vabbè Loco dimmi che cosa dobbiamo fare Guarda cosa ho portato Guarda Batti E apri Ma da dove le hai prese tutte ste robe Loco? Dal mio mondo Ma che Cioè tu sei arrivato Tu sei malato Cosa dobbiamo fare con tutta questa roba? Dobbiamo fare un passaggio segreto Batti Ma dove lo facciamo il passaggio segreto? Sotto di te Come sotto di C'è qua sotto Sì qui sotto Questo passaggio non mi piace Deve essere segreto Ok E come Come facciamo a farlo segreto? Che tu sei il maestro di queste cose E Non lo so Cioè fai così Fatto Passaggio segreto finito Bravo Passaggio segreto Ok Poi mi dovrei aiutare a fare molte cose Ovviamente ragazzi Ma se io cado Cosa succede? Se cadi perdi tutto Guarda ti faccio vedere Ho sbagliato di qua Oppa l'hai E Loco è morto Bene Comunque ragazzi Se lasciate un bel po' di mi piace Ovviamente oggi Loco Lo inviteremo di nuovo Vero Loco Se vuoi Ehi va benissimo A fare qualche costruzioncina Con la Rerson Che a lui piacciono tanto E ci divertiamo tantissimo Ma Non perdiamo altro tempo Loco Spiegami un attimo Come lo vuoi fare Poi cominciamo a costruirlo E vediamo se funziona la cosa Allora dimmi te Allora dimmi te dove vuoi farlo esattamente E Loco a questo punto Cioè io lo farei A parte che questa casa qui La dovremmo togliere Perché è bruttissima Non mi piace più E la voglio fare E la voglio fare tipo lì dietro Ti ha fatto esplodere? No non adesso magari Non è il momento Ma è divertente farlo esplodere Ma non è il momento Io vorrei farlo qui Per scendere qui sotto Dove c'è la chest Che oltretutto devo sistemare E portare tutto Di un livello più in basso Almeno la chest Devo portare di un livello più in basso Perché sennò Non posso raccogliere le cose Che cadono Ok potrebbe essere un po' complicato Farlo qui sotto Te lo dico subito Allora scegli tu dove vuoi farlo Non lo so io Non è così facile Ma a te non piacciono le sfide Scusami Cioè non lo so Le sfide sono belle Però questa è una sfida eccessiva No questa è una sfida normale Dai Loco ci siamo Io credo in te Dai fammi questo passato Allora iniziamo Dai Loco spiegami come lo vuoi fare Allora praticamente Ci saranno qua Tre blocchi di dirt Va bene? Ok Tre blocchi di dirt mi piacciono Ma che cosa ce ne facciamo? Questi Se andranno giù tutti E formeranno una scala Ok sono diventati due blocchi di dirt Come dobbiamo risolvere questa cosa? Non tra adesso Ok perfetto Va bene Quindi tu vuoi fare giù Che formano una scala Ma Loco ma tu sei pazzo Ma come fai fare queste cose? Ma che pazzo Allora guarda Molto semplice Questo attivato Ok fatto Finito Ok a posto E poi? Il primo è fatto Poi dobbiamo fare il secondo Il secondo un po' più complesso Ok? Aspetta vengo sotto a vedere Scusami che è più carina anche la cosa Hai ragione Hai ragione Sai che sai cosa manca qua? Delle torce Hai per caso delle torce Perché io mi hai dato solo una torcia Che è la torcia di Redstone Guarda te Ragazzi ho messo Ho usato un attimo la magia Perché sennò non si vedeva una mazza E loco si arrabbiava La pistone così va bene Ok Sì Con questo pistone qui così Bene Posso giudere a questo L'ha portato giù? Però questo deve essere portato ancora di uno più giù Vai tieni Bravissimo Qua un coso E qua poi Uno slimeball Uno slimeblock Ti piace il slimeblock? Ma non mi prendi lo slimeblock Scusami Ma io voglio Ma prendi la terra Chi lo vuole lo slimeblock? Ma serve lo slimeball E allora prendiamo lo slimeball E allora guarda Funziona così Poi questo vi ha tirato giù E poi deve essere tirato giù ancora di uno Non dobbiamo scendere Vabbè non è un problema loco Guarda tanto sei tu l'ha detto ai lavori Poi andare tranquillamente giù Ma perché è mio perché fa queste cose? Ma sì loco Guarda vengo anch'io Così controlliamo insieme Secondo No 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 Oddio stavo cadendo Mi hai buttato giù Assassino Sei tu che hai buttato giù ma Torna su Matti Ho capito Torno su Torno su Ti lascio agire Bravo Ok perfetto Perfetto Ah no Ma schifo Matti Perdo tutto Matti Eh loco Salvati con l'acqua Credo in te loco Non funziona È troppo lontana Scende più veloce di quanto sale Che vuol dire? Oddio ragazzi ho perso loco Lo salvo Si è salvato Per fortuna Ho perso con la render distance Avevo perso loco Non so più dove eri finito Buongiorno Ciao loco Come stai? Prendite l'acqua subito Ok e adesso? Il piccolo te lo dà Metti l'acqua Bravo buddy Non toglierla stavolta Ma scusami Sei tu che hai detto Togli l'acqua Adesso mi dici Rimetti l'acqua Togli l'acqua Ragazzi io non Io non invito più l'acqua Veramente Proprio una persona cattiva Quando fa queste cose Ma come è cattiva? Rimetti l'acqua Veloce Mi rendete conto ragazzi Di loco che mi sfrutta Per mettere e togliere l'acqua Ma guarda te Ma guarda te Ma io veramente non ho parole Ok è questo? Non funziona buddy Eh vedi Te l'ho detto Che con lo slime Non funzionava Perché non funziona? Perché tu sei vecchio Strano e non sei capace Ma come basta? No loco No tu me lo devi Ma come è finita? Ma no loco Sai calmo Possiamo sistemare tutto Non ti preoccupare Loco tira sul piccone Cosa stai facendo? Oddio buddy Ma perché? Eh vabbè Io aspetto loco qui un attimino Insomma Già È caduto dal mondo Già Che bello Ciao Eccomi qua Maddi sono tornato Ciao loco Sì allora Lo possiamo sistemare Cioè penso di essere un po' più Intelligente di te In questo momento E come vuoi farlo Lo fai solo a gradini Lo fai a gradini E il terzo blocco Lo spaccherò io a mano Non so Oppure tipo che si sposta Io ti avevo detto Guarda ho preso anche un pistone Non so dove l'abbia preso Tieni pigliatelo E utilizza anche quello A me piace fregare le cose a loco Tu praticamente fai No che casino stai facendo? Cambiamo tutto Vedi ho un nuovo piano Una nuovità geniale Cambiamo tutto Torniamo sopra Vai Torniamo sopra Intanto ragazzi Mi avete consigliato Tipo i nomi delle tartarughe Ma non mi ricordo Quali erano quelli belli Perché tutti avete detto Tarta e ruga Ma sono troppo normali Noi cerchiamo qualcosa di più Di più Di più Ecco di più Quindi scrivetemi ancora sotto I nomi delle tartarughe Oppure il nome di dare a loco Come animale domestico Di questa No sto scherzando Mi dissocio Vero loco? Perché baddi? Perché ti voglio bene Allora baddi Rompi la cesta Non hai una cetta? Sì ma lo voglio rompere a mano È più bello Bravo baddi Ok cosa dobbiamo fare? Prendi questo Unicilo insieme Ok Questa roba mi mancava È una trappe di cesto Ok Adesso metti la cesta Ok Poi sotto ci mettiamo la tnt E il passaggio fatto Metto dentro qualcosa Metto dentro Oh come la tnt? No aspetta non ho capito Che passaggio segreto Con la tnt loco Ma la tnt no? Non vuole tnt nel tuo mondo Scusa? E no in realtà Non no Vorrei poter scendere E io non qua pochettino No cioè Ma loco ma Io tutte queste robe Che ti stai portando dietro Non le accetto sai Perché baddi? Beh perché no Perché no Non le ho detto Preparati un po' di cose Per venire nel mio mondo Ma tu ovviamente Non è che dicevo Mi porto giusto due robe di numero Ma guardateo Ho poi sotto due teniti infatti Non va bene Sembbero due teniti Va bene Va bene Ok Ecco perfetto E quindi come lo attivo questo? Allora non si attiva È finito Basta mi ha visto passaggio Sto scherzando baddi Vieni giù Dai No ok No perché stavo già per bannarti Allora è molto molto semplice Ok Ok Forse sarà un po' visibile da sopra Però chi se ne frega allora Ma si tanto nel senso Sono qui solo io Al massimo verrai tu Quindi tu lo conosci già Il passaggio segreto Poi se invitiamo qualcun altro Loco sarà un po' più un problema Ecco insomma Ma chi se ne frega Levati via Sei in mezzo Ok Costruiscilo pure Loco E ci penso io Vada fatto finito E poi? È fatto E ma adesso come funziona? Eh dubbi Sì Eh sì dobbiamo risalire giusto? Questo che mi stai dicendo Eh esatto Dobbiamo risalire esatto Facciamo risalire Loco Dobbiamo spaccare tutto di nuovo Ok Il sistema di risalita Non è ancora stato programmato Per questo mondo ok Va bene? Va bene va bene Quindi funziona che se io apro la chest Non succede nulla Ma devi stare calmo Stai calmo Allora sotto la chest Sì Dovranno esserci dei blocchi Con la redstone ok? Ok 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 Qua ci sarà un pezzo di redstone Che andrà a toccare queste cose Ok Vieni giù subito buddy Ok Sono qui Stai calmo Sei lento Non sei qui Ok Così così e così Perfetto Prima andrà disattivato Quello Questo qua Iscrivetevi al canale di Marci Va bene Iscrivetevi al canale di Marci E anche quello di Loco grazie No Quello di Loco no Perché Loco è bravo Perché Loco no Loco è bravissimo E baddi allora Abbiamo quasi finito ok? Ok Loco va bene Guarda destra Destra Sinistra 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 Aspetta che metto via tutte le cose Dove Marci Che cosa sta facendo Loco? Marci destra o sinistra? Destra Sinistra Perfetto Sinistra si salva No ma Loco Smettila di buttarti giù E' la quinta volta Me l'ha detto Marci Che dovevo andare a sinistra Marci tutta colpa tua eh Baddi abbiamo finito La smetti di lanciarti giù Io non ti sopporto più Abbiamo finito baddi Guardatelo in faccia ragazzi Ma non vi viene voglia Di smettila di buttarti giù Loco Finiamo Veloce 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 Ok scusa va bene scherzato Abbiamo finito baddi E come funziona? Quindi io adesso Apri la chest Però mi devi mettere tipo un timer Un qualcosa del genere no? Cioè se io apro la chest E no vedi che non funziona Ecco Loco Non è capace A fare i passaggi segreti Abbiamo finito il video Ciao a tutti Ho un nuovo piano baddi Sali su con me Veloce Ah si già su Rompi la chest Veloce Ok Clicca il pulsante E beh che dire Loco Molto Molto utile Peccato che non scende di due Allora aspetta Mi stai confondendo Questo mondo E' bugato Non è colpa mia Io cambio il repeater Adesso funziona Sì adesso funziona Ok perfetto Perché baddi cambia i miei repeater Non è vero In realtà Si risale Clicca il pulsante Ah ok Lo facciamo come quello che mi ha fatto il mercato Ma è bellissimo ragazzi Il nuovo passaggio segreto Il geniale Sono troppo intelligente baddi Bellissimo Ha tutto tranne che segreto Però ha un nuovo passaggio Diciamo un nuovo passaggio Posso dare un po' di redstone Per i tuoi progetti futuri C'è tutto da inventare Ma guarda dentro del redstone ti viene pure tu Perché se ragazzi raggiungiamo Almeno non mi ricordo Quanti mi piacciono Io direi 50.000 Mi piacciono Scherzo Se raggiungiamo un bel po' di mi piace Loco smetterà di cadere dal mondo E verrà ad aiutarci Con altri progetti con la redstone Ho perso tutto Ecco ho perso tutto Quindi andrà a farmare tutto Nella nostra chest E non so come risalire Quindi io vi saluto da qui sotto Dal baddi è tutto Spero che questo vi piaccia Ciao loco Ciao a tutti Ciao